buon salve benvenuti e bentornati sul mio canale ok mi ero promessa una sola cosa di non fare dei tutorial dello stesso tema dello stesso gioco dello stesso anime quello che volete in un arco di tempo piccolissimo ma siccome di recente ho visto dei video creepypasta che magari sicuramente voi conoscete riguardo maiora o maggiora masch come lo volete pronunciare io non so qual è la pronuncia esatta quindi perdonatemi mi è balenata in testa questo fatto di voler riprodurre proprio la maschera ho visto diverse immagini e praticamente per poterla fare fedele e così bene la riproduzione fedelissima in realtà bisogna avere o direttamente uno stampo te lo fai col gesso te lo fai in silicone in tutti i materiali esistenti per poter stampare una cosa del genere o se sei un bravissimo fabbro te lo intagli nel legno sono due lavorazioni diverse e faticosissime in ogni caso però io siccome ho delle abilità ma non quelle di lavorare il legno o di realizzare degli scampi o lavorare con materiali diversi dalla gomma eva e simili mi sono ingegnato un progettino così partendo da una silhouette a forma di cuore e ho realizzato questa maschera ma più che maschera in sé sarà un oggetto da appendere al muro e insieme nel mio caso ad acquaco e uca uca che sono appesi proprio di fronte a me e c'è in mezzo c'è la maschera di vi per vendetta però sinceramente un po cozza quindi credo che la maschera di maiora maggiore a mask ci stia meglio di della maschera di vi ho cercato di riprodurre nei dettagli tutto quello che riuscivo a vedere nelle immagini anche perché più che l'immagine in sé del videogioco che è di qualche anno fa quindi non i dettagli non si vedono benissimo mi sono affidata diverse immagini di action figure dimensioni reali ho notato che è molto molto colorata che ha diverse sfumature e io ho dato che con la colorazione me la cava abbastanza bene giocherò molto con quello anche perché col progettino che mi sono fatta a livello di composizione le forme da assemblare insieme non sono così complicate abbiamo la forma centrale di un cuore poi abbiamo dei coni per un totale di otto coni laterali 4 e 4 e due che saranno praticamente le corna tramite l'utilizzo di una palla trasparente di natale divisa in due andremo a fare gli occhi per fare i coni soprattutto dei coni perfetti quindi con la punta vi consiglio di andare a vedere i tutorial su come realizzare dei coni per pasticceria e credetemi sono facilissimi e mi hanno aiutato tantissimo a realizzare questi coni perfetti con delle punte bellissime mi raccomando io vi invito a guardare bene tutti i dettagli dall'immagine principale che prenderete come riferimento perché qui è richiesto un lavoro di simmetria tutte le parti sono uguali fra di loro e bisogna stare molto molto attenti io non assicuro niente non credo verrà perfettissimo però cercherò di metterci tanto impegno se voi volete mettere questo impegno insieme a me proseguiamo andiamo a vedere come realizzare questa maschera realizzate una sagoma a forma di cuore e ritagliatela per cinque volte sul materassino da yoga incollatela una sull'altra per fare spessore definiti i bordi con gomma eva strisce e ritagliate gli eccessi realizzate 10 coni uguali con gomma eva o cartoncino bristol 200 grammi giallo o bianco 4 per lato e 2 per le corna seguendo un'immagine di riferimento realizzate tutti i dettagli partendo dalla parte frontale per questo ultimate con la parte superiore della maschera ai fori sparsi all'altezza della fronte e bocca aiutatevi con la punta della pistola della colla a caldo o disegnatevi per la parte di coni in modo corretto e simmetrico colorate con acrilici o con materiali che più vi piacciono per la parte di coni in modo corretto e simmetrico colorate con gomma Ed eccoci qui con la maschera terminata Non me l'aspettavo così grande però credo che realmente se uno dovesse immaginare la maschera di una determinata dimensione credo proprio che sia questa Risultato finale mi piace soprattutto la colorazione l'avevo già detto prima che è il mio punto forte quindi non avevo dubbi ma il mio dubbio più grande era appunto la simmetria Diciamo che su una scala da 1 a 10 ho rispettato la simmetria almeno al 75% perché probabilmente quando sono andata a incollare le parti in rilievo soprattutto della parte qui davanti Invece di mettere la maschera dritta davanti a me probabilmente anzi leviamo il probabilmente l'avrò leggermente inclinata ed è per questo che di un centimetro e mezzo non è venuta perfettamente simmetrica Tutto sommato non è così malaccio diciamo che ci devi fare proprio attenzione se uno vuole andare a trovare il pelo nell'uovo e siccome io sono la creatrice diretta i pedi ne vedo tantissimi quindi sono molto critica con me stessa Allora questa maschera come detto prima andrà appesa tra Aku Aku e Uka Uka quindi subito dopo il video aggiungerò la cordicina qui dietro per andarla a pendere Dietro l'ho lasciata semplice nera avevo il dubbio se farla viola o nera però semplicemente non volevo sprecare il viola anche perché me ne era rimasto pochissimo non ero sicura di poter coprire tutta la parte retro Quindi l'ho fatta nera a simulare il vuoto dietro la maschera anche perché sono andata a vedere dei frame proprio del gioco mentre c'è il caricamento della maschera ed effettivamente il retro è tutto nero Per quanto riguarda gli occhi mi piacciono come sono venuti perché mi interessava più che altro ottenere questo effetto molto lucido quindi basta dipingere internamente le sfere e il lavoro è fatto Però bisogna prestare molta attenzione perché essendo molto sfumati che vada al giallo all'arancione al rosso e al marrone bisogna mescolare per bene tutti i colori Infatti ci ho impiegato un po' a realizzare queste sfere perché dovevo fare strato su strato aspettare che si asciugasse poi con uno stecchino andavo a graffiare un po' il colore Giusto per fare altri strati diverse sfumature così avevamo il cangiante dal chiaro a scuro e sono riuscita ad ottenere questa sfumatura che si vede anche nell'immagine originale Probabilmente avrei dovuto fare un po' più di giallo quindi cominciare con un colore un po' più chiaro però tutto dipende dall'immagine che andate a scegliere Perché ci sono alcune immagini dove si vedono gli occhi addirittura quasi bianchi per poi sfumare con gli altri colori Altri invece tendenzialmente su giallo e altri tendenzialmente sull'arancio Non è che è sbagliato però dipende da quale immagine voi prendete ispirazione il colore dell'occhio definitivo potrebbe anche cambiare Questi dettagli bianchi io inizialmente li volevo fare anche in rilievo solo che non avevo la gomma eva bianca Avevo pensato di farli con del cartoncino bianco però alla fin fine ho pensato che dipingendoli non sarebbe stato nemmeno male Anche per non mettere troppi dettagli in rilievo perché finché qualcuno sparso qui e lì ci sta ma eccedere no Per quanto riguarda i coni che come potete vedere sono perfettamente appuntiti E effettivamente qui il pelo nell'uovo sta nella lunghezza perché se fossero stati di un, due, tre centimetri più corti sarebbe stato un po' più fedele all'immagine originale Però anche così non mi dispiace, si gioca molto di simmetria quindi se i coni sono tutti perfettamente uguali di larghezza e lunghezza non correte alcun rischio Il problema è se ogni coni aveva una dimensione a sé stante e allora lì non andava bene Le dimensioni sono riuscite ad ottenerle uguali per tutti quindi mi accontento così Idem per le corna, con le corna ho dovuto giocare un pochettino di più con le sfumature perché non volevo lasciarle completamente gialle I buchi che vedete sulla maschera potete o disegnarli o farli in rilievo ritagliando dei piccoli tondini con la gomma eva O come ho fatto io per renderlo un po' più realistico con la punta della pistola della colla a caldo Lentamente andate a fare questi fori che praticamente prenderanno il colore nero naturale perché sono scavati internamente Per quanto riguarda invece i dettagli superiori soprattutto queste parti arancioni sono abbastanza semplici Perché dovete ritagliare sei triangoli non proprio uguali ma molto simili tra di loro e dovevano essere divisi in due gruppi da tre Potevano rimanere arancioni però dato che ho giocato molto con le sfumature ombre e luci non mi piaceva lasciarlo unica tinta Quindi ho cercato di rendere omogeneo tutta la colorazione idem per la parte qui sopra Nell'immagine originale essendo più bombata praticamente questa parte è più visibile Invece io vi faccio vedere così ho cercato di immaginare come poteva essere in versione piatta E ho riprodotto gli stessi dettagli ma in questo modo Anche perché non è niente di difficile sono per dei rettangoli con dei tagli neri da applicare sotto le corna Essendo a forma di cuore effettivamente potevo pensarlo come tutorial per San Valentino Però non so quanto sia attinente la maschera del gioco di Majora Musk per un tutorial di San Valentino Va bene la forma di cuore però per tutte le creepypasta che abbiamo ascoltato fino ad ora Non credo che proprio sia il tutorial adatto per il giorno degli innamorati Quindi ho fatto bene a riprodurlo molto più avanti Ammetto che con la siluetta a forma di cuore che avete visto nel video Già ho in mente uno o altri due tutorial da fare E vi faccio un po' di spoiler Saranno due scettri in particolare tratti da due anime che hanno accompagnato la nostra infanzia Non vi dico quali nello specifico Vi faccio un po' scervellare Cercate di immaginare quali anime, quale maghette hanno usato nella loro vita uno scettro a forma di cuore E scrivetemelo nei commenti Spero che questo tutorial vi sia piaciuto Che vi abbia tenuto compagnia Se avete foto e video di cose realizzate grazie ai miei tutorial Sapete che potete mandarli sui miei social Che li trovate giù in descrizione E se volete sostenere il canale in qualche modo Anche offrendomi un piccolissimo biscottino Una buonissima caramella al limone Potete contribuire mandando giusto un contributo su Ko-fi Trovate sempre il link sotto in descrizione insieme agli altri social Se avete altri suggerimenti di tutorial tratti dal mondo nerd Mi raccomando scrivete sempre sotto nei commenti perché io vi leggo Detto questo ci vediamo alla prossima e spero che la creazione di questa maschera Non mi porti a fare degli incubi Vediamo, la appendiamo e vediamo come va Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao